Capolista non si lascia sfuggire l'occasione di irrobustire la propria leadership, sebbene il testacoda al comunale di Nereto alla fine sia risultato più sofferto nei numeri che non nella sostanza. Gli highlights curati da Manuel Centurame e dal sesto il primo acuto ospite proprio con il neo arrivato Massetti, defilato a mezza altezza, il tiro si perde a lato. Anche Diarrà prova la conclusione dalla distanza potenta ma senza fortuna, l'Aquila è padrona del gioco della metà campo avversaria e tesse la tela con molta perizia, anche perché la squadra di Simone Vitale se ne vede bene di attaccare a sproposito la corazzata, a dire il vero quando lo fa come a metà parziale e tiene sempre allerta la linea difensiva. Mezz'ora l'Aquila prova a sfondare in aria con Sarrizzo che riesce ad ispirare la girata di Shiba respinta nel suo esito. Sul finale di tempo i rosso-blu alzano i ritmi. Al trentanovesimo angolo ospite, coordinazione e conclusione di Massetti esemplare con palla che scavalca la porta due minuti dopo difesa nere tese in affanno. Sarrizzo serve in aria Shiba e lì ma il tentativo è di poco fuori. Ad un minuto dal duplice fischio la prima sortita nere tese Cianci in verticale per Taccosta che però manda la sfera lontanissima da Mascolo. Passa in archivio il primo tempo, ripresa con inizio a testa bassa e proprio di testa. Marchionni si ora la marcatura così come Sarrizzo che non trova il pallone tre minuti dopo. Epifani intanto dà spessore all'attacco proponendo il ritrovato Alessandro in luogo di Mantini. Sarrizzo va via d'imperio e il suo assist semina panico in area dei locali che salvano la porta. Pericolo ancora da destra Alessandro Sarrizzo esterno rete. Il forcing Aquilano si fa impressionante. Le occasioni aumentano in maniera esponenziale e quella decisiva cade al diciassettesimo sui piedi di Massetti che con il sinistro forse sporcato in fila Natale. 1-0 vantaggio meritato. Il nereto intanto perde Picozzi espulso per doppia ammunizione. Insomma la beffa oltre il danno. Vitale prova tre cambi di Silvestre, Giuse e Tiberi. Uno per reparto ma in dieci sotto di un gol e contro la voglia degli ospiti di chiudere la gara. Non è assolutamente semplice. Si fa male Sciba nella capolista. Santi Rocco al suo posto. Insomma in termini di vere e proprie occasioni. Dopo il gol non ce ne sono. Sebbene l'Aquila continua a far gioco e il nereto non è mai arrendevole. E così fino al termine forse complicata ma indiscutibilmente meritati i tre punti per la capolista che allunga a più 4 sulla seconda.